Ciao ragazzi e come si suol dire buon San Valentino 2024 in questa piccola pillola di satire in grappetta volevo portarvi in visione una curiosità perché ho aperto come penso milioni di noi il browser e sono andato a vedere la pagina principale insomma di google per quanto riguarda la giornata di San Valentino e ho riscontrato qualcosa di secondo me abbastanza terrificante ed è la rappresentazione andiamo direttamente al nocciolo della questione ve la faccio vedere è la rappresentazione adesso la mettiamo in play del concetto di amore per google per quanto concerne San Valentino 2024 guardate qua abbiamo due teste che alla scelta di fare play insomma si attraggono e poi si ridividono si attraggono e si ridividono a comando qualcosa di veramente terrificante secondo me considerando quelli che sono i tempi insomma visto che siamo alle porte di un'epoca dei network neurali e quant'altro più o meno sponsorizzati da personaggi che sembrano più o meno all'interno del sistema ammesso che si voglia effettivamente considerare insomma questa o quell'altra fazione questo o quell'altro personaggio come dentro o fuori dal sistema nel momento in cui si parla di personaggi ad altissimo livello economico con legami bancari e eventualmente massonici di insomma di di livello incredibile a me ovviamente viene in mente immediatamente adesso andiamo a chiudere questo schermo mi viene in mente immediatamente un personaggio che viene introdotto da Ridley Scott quando finalmente è stato libero di fare il suo Prometheus un personaggio che è interpretato da Guy Pearce in maniera eccezionale eccolo qua che è il signor Peter Willand che sta parlando tra l'altro al Ted all'inizio della versione estesa del film Prometheus e lui dice insomma abbiamo fatto dei balzi tecnologici incredibili una volta davamo tutto questo in qualche maniera rimettevamo tutto questo nelle mani degli dei oggi che abbiamo costruito degli androidi che fra qualche anno non saranno più distinguibili da noi oggi che abbiamo in mano tutte le tutto quello che è la conoscenza del delle malattie primarie del cancro le abbiamo curati eccetera siamo non siamo noi gli dei questa è un'affermazione abbastanza terrificante che porterà poi Willand vecchissimo a organizzare attenzione spoiler a organizzare la ricerca di quelli che sono stati probabilmente i nostri ingegneri quelli che vengono definiti gli ingegneri delle creature pseudo umane ma di dimensioni gigantesche estremamente intelligenti che probabilmente effettivamente ci hanno creato e lo porteranno a cercare in qualche maniera una spiegazione della vita stessa e una soluzione alla morte a me questo personaggio di Peter Willand ovviamente ricorda qualcuno in particolare e ricorda in particolare questa idea di andare a impiantare questi chip nel cervello questa rete di Neuralink teoricamente per abbattere le malattie e le infermità ma realisticamente per creare qualcosa che potrebbe essere tranquillamente come tutti i sistemi informatici utilizzato in maniera bionivoca cioè potrebbe essere utilizzato ovviamente in il controllo da una parte e dall'altra così come la rete fornisce la rete toglie o così come la rete diciamo fornisce la rete ascolta e può eventualmente modificare per esempio il comportamento di qualcuno che ha deciso di farsi impiantare che è stato così stolto o così diciamo privo di volontà di decidere di farsi impiantare questo tipo di eh congegno che cambierà a tutti gli effetti come dice Peter Willand l'umanità il problema è che come effettivamente la cambierà ecco io qua ovviamente vi eh ripropongo il fatto che Google ci presenta il giorno di San Valentino in questa maniera ok in questa maniera che a me è risultata terrificante terrificante tutto qua per una piccola pillola delle di Satira e Grappetta Crack Apart una piccola riflessione spero che in qualche maniera vi risuoni e ci vediamo a una puntata intera e ci vediamo alla botteguccia dei sigilli giovedì alle ventuno e trenta con la storia di Elizabeth Bathory la contessa del sangue mi raccomando giovedì alle ventuno e trenta non non mancate noi andiamo in chiusura con la solita sigla della grappetta anche se è solo una pillolina di presenza mentale dal Teo Crack Apart mi raccomando buona giornata e ci vediamo alla prossima Grazie a tutti